Comunque c'è il... no, alla fine siamo cercato di creare tra le varie parti, un gruppo che opera una linea, insomma, di interazione tra i moni e i tra i monasi, quindi sono create in tutta la fase, insomma, progettuale, prima della fase operativa, noi abbiamo cercato di incontrarci, quindi di confrontarci continuamente sulle metodologie di lavoro e su quelli che dovessero essere i vari stati da seguire, in modo da trovare uno stesso lavoro.